Grazie a tutti. 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 Muogliono i liberatori per poterci liberare, ma la mamma sparano su di noi. Oh mamma, lo so il figlio mio, ma lo fanno per necessità, chiede a mente sempre. Sono fratelli a noi, sono fratelli a noi, oh mamma, soffroni a noi, ci vengono a liberare. Ci stanno occupando, oh mamma, il fatto è temporale, o poi ci dovrebbero lasciare. Ma l'ha giunta a una battiera nostra, ma tu, oh mamma, e non sei più contento al mondo. Diamo un colore in più, ehi, 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 scrivo una canzone. Oh mamma, bravo, sfogati il figlio mio, che questo lo puoi fare, ma scrivi una canzone evasiva. Oh mamma, e non metterci opinioni, fai una musichella d'invasione, tiene a mente sempre. Sono fratelli a noi, sono fratelli a noi, sono fratelli a noi, oh mamma, soffroni a noi, ci vengono a liberare. Everybody! Sono fratelli a noi, oh, soffroni a noi, soffroni a noi, soffroni a noi, ci vengono a liberare. E scappo via da casa, oh mamma, che vai a fare sopra i monti, se neanche sai sparare. Figlio mio, figlio, state a casa, quelli monti, si mettono d'accordo. Oh mamma, è destino nella vita nostra sopportare. Andiamo adesso. Soffroni a noi, soffroni a noi, oh mamma, soffroni a noi, ci vengono a liberare. Soffroni a noi, soffroni a noi, oh mamma, soffroni a noi, ci vengono a liberare. Sono fratelli a noi, sono fratelli a noi, oh mamma, sono fratelli a noi, ci vengono a liberare, oh mamma, sono fratelli a noi, oh mamma, sono fratelli a noi, oh mamma, sono fratelli a noi, ci vengono a liberare. Questa ragazza lì che vedete, la stupenda Angela Centro, la prima famentista in Italia, la prima donna a aver preso il diploma al conservatorio, una grande chitarrista. Un applauso alle donne chitarriste. Nego, grande cantatore di altri tempi, quella della musica di Senna. Ma quali altri tempi? Guarda che... Oh, sto scherzando. Adesso mi devo concentrare sulle scuole.